Siamo con Daniele Spada, ballottaggio ormai sicuro, Spada mancano pochissime sezioni ma ormai è sicuro. Sì, bene, puntavamo a questo risultato, l'abbiamo ottenuto, il primo successo, tra due settimane avremo il secondo. La prima cosa che farà domattina? Domattina sarà confrontarmi con i collaboratori, con gli alleati e pensare a come lavorare al meglio per queste due settimane. Quali sono gli alleati? Gli alleati del centro-destra, ovviamente. E possibili alleati, nuovi alleati? Non poniamo limiti alla provvidenza, sentirò anche Daghini, anche se mi pare che sia un po' contrario. Milone ha già detto domani ci sederemo al tavolo con Spada, quindi lui è il primo? Sì, lui, penso ovviamente ad Aldo, a Marilena Garnet, a Emilio Paradiso, alle forze politiche che hanno programmi più affini al nostro. Ma ripeto, parleremo ai cittadini e parleremo agli elettori di quelle forze politiche esclusi dal ballottaggio senza alcuna prelusione. Li ha già sentiti i candidati che ha appena citato? No, ancora no. Su quali temi punterete in questi 15 giorni che forse non hanno fatto presa sull'elettorato tanto da farvi vincere al primo turno? Se questo era nell'ipotepio, perché lei ha già detto, ha parlato di vittoria per il ballottaggio. Beh, assolutamente sì, lo ripeto, per noi è una vittoria. Il PD aveva mobilitato tutto il mobilitabile per cercare di dare la spallata al primo turno. Non gli è riuscita, quindi adesso si riparte, si tira una linea e si riparte. E noi lavoreremo sul nostro programma, siamo convinti che sia un programma vincente, un programma valido. Insisteremo sulle idee che abbiamo portato avanti fino adesso. Certo, è che è un ballottaggio la rincorsa. Comunque voi siete dietro il sindaco uscente Biffoni. Sì, certo, una rincorsa non ci spaventa, anche perché la nostra è stata una campagna elettorale molto breve, quindi due settimane in più ci serviranno per far conoscere al meglio le nostre idee e i nostri progetti. C'è qualche lista che si aspettava funzionasse meglio all'interno della coalizione? Ma guardi, preferisco parlarne in positivo. Mi ha sorpreso appunto in positivo il risultato della lista civica, una lista civica nata un mese e mezzo fa e che si è affermata con un 4%, un risultato oltre a ogni più grossa aspettativa. Si aspettava che la Lega, anche alla luce del risultato delle europee, trascinasse di più? Beh, la Lega ha fatto comunque un buon risultato, certo il risultato sul dato dell'Europa è talmente clamoroso che effettivamente ha lasciato ieri tutti stupefatti. Vedremo al ballottaggio di far sì che tutti quei voti che non ci sono stati in questo caso tornino nelle urne a favore nostro. Non la spaventa chi deciderà di rimanere a casa, il 9? No, non mi spaventa perché lavoreremo per convincere tutti quelli, e sono tantissimi, e sono la maggioranza, l'ha dimostrato il voto di oggi, che vogliono mandare Biffoni e il PD a casa.